Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La prima commissione ha approvato all'unanimità le linee di indirizzo per la modificazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per l'Umbria 2014-2020. Ce ne parla Marco Paganini. Le misure per il sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal sisma nell'ambito delle quote del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinata all'Umbria per il periodo 2014-2020 sono state approvate dalla prima commissione a voti unanimi. Predisposte dall'esecutivo di Palazzo Donini, le linee guida perseguono cinque obiettivi tematici, ricerca e sviluppo tecnologico, competitività delle piccole e medie imprese, economia a basse emissioni di carbonio, prevenzione e gestione dei rischi, tutela dell'ambiente. Tra gli interventi specifici previsti ci sono quelli rivolti allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, alla ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, alla ricostruzione messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubblicati nelle aree maggiormente a rischio, alla tutela e valorizzazione messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale. Ai lavori della prima commissione hanno partecipato gli studenti dei licei Alessi e Galilei di Perugia, che effettuano l'alternanza scuola-lavoro affiancando gli uffici dell'Assemblea. Discussa in commissione una interrogazione di Giacomo Leonelli del Partito Democratico in merito alla tutela occupazionale nello stabilimento Nesle Perugina di Sanzisto. Per la Giunta ha risposto il dirigente Luigi Rossetti. Vediamo. Nella avvertenza Nesle Perugina e nello specifico l'annuncio di esuberi di personale per lo stabilimento di Sanzisto, particolare valore di importanza assume l'incontro istituzionale organizzato dalla Presidente della Giunta, Catiuscia Marini, a cui partecipano le organizzazioni sindacali, le RSU, il Comune di Perugia e l'Azienda. Un incontro dal quale dovrebbe emergere un quadro più organico rispetto alla vicenda nel suo complesso. È stato questo il passaggio di maggiore rilievo nella risposta del dirigente regionale Luigi Rossetti ad una interrogazione di Giacomo Leonelli del Partito Democratico, discussa nel corso della seduta settimanale della seconda commissione presieduta da Erosbrega in merito all'annuncio di esuberi di personale, oltre 300 dipendenti, per lo stabilimento di Sanzisto da parte di Nesle Perugina. Rossetti ha definito la situazione non semplice da gestire, anche dal punto di vista istituzionale, per chi ha detto è evidente che una vertenza così importante a livello occupazionale potrebbe richiedere, se non si trovassero rapidamente modalità di articolazione diversa rispetto agli esuberi, collocazione naturale nel contesto delle attività presiedute dal Ministero dello Sviluppo Economico che, tra l'altro, come struttura tecnica, ha evidenziato Rossetti, sul mandato della Giunta abbiamo già sensibilizzato, vertenze di questa portata troverebbero dunque la loro sede naturale di risoluzione nel contesto nazionale. Il Comitato di Monitoraggio e Vigilanza ha ascoltato l'amministratore unico dell'Agenzia Forestale Regionale, Giuliano Nalli, in merito alla situazione del personale trasferito alla stessa agenzia. L'Agenzia Forestale Regionale deve confrontarsi con il mercato e quindi anche con i privati e puntare ad un efficientamento a 360 gradi della struttura per garantire la massima efficacia ed organizzazione. E' questo l'obiettivo dell'Agenzia Forestale, esplicitato dall'amministratore unico Giuliano Nalli, ascoltato dal Comitato di Monitoraggio e Vigilanza sull'amministrazione regionale presieduto da Raffaele Nevi. L'audizione era stata richiesta dal consigliere regionale Marco Squarta dei Fratelli d'Italia per avere chiarimenti sulla situazione del personale trasferito all'Agenzia Medesima dalle comunità montane e in particolare del settore operaio. Su 453 dipendenti dell'Agenzia Forestale, come ha spiegato Nalli, 180 sono invalidi o inidonei al lavoro e la situazione è particolarmente complessa perché non è possibile trovare loro soluzioni lavorative e mansioni adeguate. Per questo, a giudizio dell'amministratore unico dell'Agenzia, non è più procrastinabile dare corso dopo l'approvazione della Giunta regionale a quanto stabilito dalla legge istitutiva dell'Agenzia stessa, che prevede l'adozione di forme incentivanti su base volontaria per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per l'esonero dal servizio per inidoneità al lavoro o idoneità con limitazioni o prescrizioni certificate che incidono negativamente sullo svolgimento delle attività operative. La seconda commissione presieduta da Erosbrega ha ribadito il via libera al disegno di legge della Giunta sulla legislazione turistica regionale. Dopo aver già approvato l'intero articolato e in più parti emendato nel corso dell'ultima seduta, si è dato corso al voto definitivo dopo che gli uffici preposti della Giunta regionale hanno provveduto alla verifica di compatibilità della norma finanziaria con il bilancio regionale. E come nella precedente votazione, ribadite le posizioni dei commissari. A favore hanno votato i chiacchieroni smacchi Deonelli e Brega del PD, Rometti dei socialisti e Ricci del gruppo Ricci Presidente. Ha senuto liberati del Movimento 5 Stelle. La terza commissione ha preso atto delle risultanze della clausola valutativa in merito alla somministrazione a scopo terapeutico di medicinali derivati dalla cannabis. Paolo Giovagnoni Soltanto dall'anno scorso, in applicazione del decreto ministeriale di fine 2015, la cannabis ha iniziato a essere prodotta dallo Stato italiano, nell'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. La relazione esaminata dai commissari contiene i dati dal 2016 a oggi. Sono state allestite preparazioni magistrali a base di cannabis per 37 pazienti, di cui 27 per terapia del dolore, 5 per sindrome spastico-distonica, 3 per cure palliative, 1 per epilessia farmacoresistente e 1 per emesi da chemioterapia. Di questi pazienti, 3 sono deceduti, 9 non sono più in trattamento. In totale, da quando la legge regionale è stata approvata, sono stati acquistati dalle ASL Umbre 1.480 grammi di Bedrocan e 100 grammi di Bedrolite, entrambi derivati dalla cannabis di produzione olandese. La spesa complessiva è stata di 15.642 euro, che incide in modo definito trascurabile sull'ammontare complessivo della spesa farmaceutica regionale. La principale criticità riguarda la complessità delle procedure autorizzative per l'importazione del prodotto. Mediamente ci vogliono 40 giorni. Inoltre, a causa del crescente numero di richieste, si sono verificate indisponibilità di materia prima, che in alcuni casi hanno causato ritardi nella continuità terapeutica dei pazienti. La Giunta regionale presume che tali criticità si risolvano con la disponibilità dei prodotti nazionali, ovvero la cannabis prodotta dall'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. La terza commissione ha approvato a maggioranza la relazione sulla clausola valutativa riguardante la legge regionale 14 del 2012 sulla valorizzazione dell'invecchiamento attivo. I progetti messi in campo dal 2012 al 2016 hanno prodotto la consapevolezza, nella fascia di popolazione over 65, pari a un quarto della popolazione umbra, di essere ancora una risorsa per la società e hanno anche portato a un innalzamento della qualità della vita attraverso la socializzazione e l'impegno nel volontariato in ambito produttivo. Programmate azioni e realizzati interventi e servizi finalizzati a riconoscere il ruolo delle persone anziane nella comunità e a promuoverne la partecipazione alla vita sociale. La Regione ha investito nel quadriennio risorse pari a 650 mila euro. La legge regionale sull'assistenza odontoiatrica, protesica e ortesica a costi contenuti per le fasce di popolazione meno abbienti confluita nel test unico in materia di sanità è stata solo parzialmente attuata. Sono le risultanze della relazione sulla clausola valutativa approvata dalla terza commissione consigliare. La criticità è rappresentata dal mancato accreditamento al servizio sanitario di strutture private che potessero erogare prestazioni con tariffe predefinite quindi anche il contenimento dei costi delle prestazioni odontoiatriche, protesiche e ortesiche grazie alla libera scelta tra servizio pubblico e privato. È stato quindi un obiettivo non raggiunto. Tutti i distretti sanitari e l'azienda ospedaliere hanno attivato il servizio previsto dalla legge ma soltanto un privato risulta avere messo a disposizione la fornitura di protesi odontoiatriche. Presentati dal Corecom dell'Umbria e i vincitori del concorso TV di Comunità 2017 i dettagli nel servizio di Paolo Giovagnoni. Il Corecom dell'Umbria presentato in una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Cesaroni di Perugia i vincitori del concorso TV di Comunità 2017 rivolto alle emittenti televisive radiofoniche con una sezione anche per le associazioni i progetti la cui produzione sarà ultimata fra settembre e ottobre sono stati valutati da una giuria di esperti presieduta dal giornalista Alvaro Fiorucci. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno di TV di Comunità è raccontare per ricostruire legami sociali, economia, cultura, turismo. Con l'obiettivo, ha spiegato il presidente del Corecom Marco Mazzoni, di concorrere alla promozione dei territori colpiti dal sisma del 2017 attraverso un'informazione dal basso vogliamo far sì che rimanga sempre alta l'attenzione sulle complesse problematiche che gli abitanti di quelle aree si trovano ad affrontare. I partecipanti hanno inviato i loro progetti di realizzazione di video, audio e inchieste riguardanti legami sociali, economia, cultura, turismo e per le emittenti televisive sono stati selezionati i progetti Il Tempo della Rinascita di Tef Channel Un Aiuto nel Sisma di R Tua, Teleorbieto 2 e Community Terre e Tessuti da Ripensare di Umbria TV Per le emittenti radiofoniche sono stati selezionati i progetti La Voce della Valnerina di Umbria Radio e Another Brick in the Wall Ripartiamo dalla Comunità di Radio Gente Umbra Nella sezione Associazioni sono stati selezionati i progetti Colpiti nel Cuore Appunti per una ricostruzione dell'Associazione La Città del Sole e Restart Comunità Resistenti dell'Associazione Mente Girocale Ed è tutto per questa edizione Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube Grazie per averci seguito Arrivederci